Allora buonasera, il scopo di questo video è farvi vedere come transitare delle animazioni fatte in Blender su Godot in questo caso io ho fatto un'animazione che come vedete fa Suzanne, che è la famosa scimmietta di Blender che fa No con la testa, questa posso attivarla da Godot semplicemente col tastino freccia destra freccia sinistra invece se premo freccia in alto o freccia in basso attivo la scimmietta che fa Si se invece premo spazio fermo l'animazione è una cosa molto semplice, serve solo per introdurre tutte le sottigliezze adesso poi ve lo farò vedere tutto partendo da Blender però prima di tutto facciamo un repilogo allora qui c'è uno script, lo script serve solo per agire con i tastini quindi dice semplicemente se si preme WeUp oppure WeDown bisogna far lanciare l'animazione che si chiama Yes se invece si preme la freccia sinistra o la freccia destra fa partire l'animazione No e se si preme Accept che sarebbe lo spazio stop a tutte le animazioni come vedete qui abbiamo la nostra scena principale nella scena principale abbiamo importato Suzanne Suzanne vedete che quando viene importata viene importato sia nella sua Mesh che è questa e sia con l'animazione di partenza che questa animazione di partenza è quella che è contenuta nell'export di Blender come notate queste cose che vengono da Blender sono in grigetto vuol dire che non sono modificabili infatti io ho dovuto fare un piccolo trucco in cui ho creato una seconda animazione un'animation player 2 in cui gli ho ricopiato le animazioni che venivano da Blender questo perché per un problema che c'è su Godot quando si importano le animazioni queste non sono permanenti quindi si ferma, fa solo un ciclo questo è un piccolo bacco di Godot ma che si può risolvere spostando tutte le animazioni su un altro animation player è un po' fastidioso ma funziona ora andiamo a vedere invece cosa abbiamo fatto in Blender in Blender come vedete io ho costruito questa scimmietta e gli ho messo due azioni un'azione Yes che se la eseguo vedete che fa lo Yes e poi gli ho messo anche un'azione No quindi se volete la vediamo un'azione No e quando fa l'azione No fondamentalmente fa No ora prendendo i keyframe corrispondenti alle varie parti la cosa interessante è prendiamo Yes Yes vedete che quando lo mettiamo all'inizio dei tempi ha la sua vedete che qui siamo andati nell'animation nell'animation abbiamo la possibilità di vedere questo che è un Dope Sheet si chiama e il Dope Sheet contiene le informazioni o sull'Action Editor o sul Dope Sheet propriamente detto di default lui va sul Dope Sheet nel Dope Sheet viene messa un'azione per volta ma in questo caso l'azione è Yes ma noi facendo Action Editor possiamo vedere le due azioni coinvolte quindi l'azione Yes e l'azione No sono due animazioni distinte l'animazione No comincia come vedete questi qui sono punti gialli corrispondono qui in pratica lo si vede con Item con Item praticamente si vede la trasformazione o anche se volete la stessa trasformazione la si vede qua sulla destra qui sulla destra si vede che la rotazione e la locazione è 0,0,0,0 quindi quando Susan è ferma la rotazione e la locazione sono 0,0,0 quando poi la spostiamo vedete che gli mettiamo un keyframe al 10 in cui gli abbiamo semplicemente detto che la rotazione attorno allo Z è 45 gradi quando arriviamo a 20 lo facciamo tornare a 0 perfetto e poi quando andiamo al 30 lo facciamo andare a meno 45 poi c'è un piccolo trucchetto quando andiamo alla quarantesima gli ho messo che non torna proprio a 0 ma che torna vedete che qui era partito con un meno 45 meno 45 va verso 0 però l'animazione quando è ripetuta se qui fosse proprio a 0 ci sarebbe un fermo dell'immagine lo vediamo cioè se gli mettiamo l'animazione qua proprio a 0 e facciamo i di lock rot quando facciamo l'animazione otteniamo vedete che quando parte da quella frame dall'ultimo frame c'è un piccolo piccola interruzione che può o meno dar fastidio io l'avevo notata e l'avevo cercato di rimuovere per rimuoverla basta andare su questa e dirgli che lo Z non era proprio 0 gli mettiamo un meno 2 meno 2 gradi qualcosa del genere ok e poi registrate la lock rot in questo modo con 2-3 gradi praticamente vedete che dovrebbe funzionare abbastanza bene analogamente per l'animazione del C che è questa vedete che parto da quindi andiamo prima cosa quindi partiamo sempre da 0, 0, 0 andiamo a 10 il frame 10 abbiamo meno 30 quindi lo faccio inclinare i 30 gradi verso l'alto lo faccio tornare a 0 nel fotogramma 20 poi lo faccio andare sotto che diventa a meno a 30 gradi per fare il C e poi quando è 40 con lo stesso trucco invece di non lo faccio passare da 0 ma lo faccio passare leggermente diverso da 0 in modo tale da garantire il movimento un'altra cosa che ho fatto è di faccio testo destro interpolation mode qui il default mi sembra che sia bezier che anche questo da vabbè potrebbe vedere che ci sono delle accelerazioni che non sono proprio quelle che vorremmo quindi la cosa ideale è linear quindi se noi mettiamo linear abbiamo quindi tasto destro e poi interpolation mode selezioniamo l'interpolation mode quindi qua è una cosa che abbiamo visto possiamo creare tutta serie di animazioni quindi abbiamo creato due yes e no però adesso giusto per chiarezza di tutti rifacciamo questa animazione dall'inizio così siete tutti contenti quindi passiamo in general discard changes partiamo con facciamo anche screencast keys così le vedete e poi cancelliamo il nostro cubo questo facciamo x delete shift a e aggiungiamo la nostra susanna monkey la susanna monkey la aggiungiamo e poi facciamo shade smooth che direi che migliora leggermente dopodichè cominciamo ad aggiungere le animazioni animazioni questa andiamo su questo dope sheet e però andiamo su l'action editor quando dobbiamo fare più di un'animazione e qui dobbiamo fare new per aggiungere un'azione che diciamo che sarà l'azione yes ok quando siamo sull'animazione yes abbiamo detto che interpolation mode linear e poi al frame 1 lo teniamo 0000 e quindi facciamo i lock rot poi andiamo sul frame che a questo punto sarà il 10 possiamo fare 10 qua ci siamo spostati e visto che dobbiamo fare lo yes andiamo in su quindi in su vuol dire rotazione lungo la x la x qua e la facciamo di meno 30 vedete che va in alto e qui facciamo i locazione e rotazione dopodichè andiamo al frame 20 e qui ci mettiamo di nuovo lo 0 quindi 0 torna a 0 facciamo lo i per lock rot andiamo ancora al 30 e qui dobbiamo farlo andare verso il basso rotazione di meno 30 no più 30 scusate 30 per farlo andare in basso facciamo i lock rot e poi andiamo finalmente al 40 vedete che si può andare anche cliccando qua col tasto sinistro a questo punto lo dobbiamo tornare a 0 ma usiamo questo trucco quindi mettiamo non 0 ma 2 e facciamo i e facciamo lock rot a questo punto ci accertiamo di mettere la fine a 40 per dire che sono 40 frame e poi controlliamo che l'animazione sia quella che ci aspettavamo perfetto ora per aggiungere la seconda animazione occorre andare qua e fare una create new action quindi facendo create new action questa nuova azione la chiamiamo no e vedete che in questo momento è una copia della prima quindi vuol dire che le posizioni sono quelle dello yes ma noi andiamo qua e invece di farlo ruotare lungo la x lo facciamo ruotare lungo la z e gli mettiamo 45 quindi lui ruota e a sinistra a 45 facciamo i facciamo i lock rot dopodichè andiamo al 20 e qui tornato nella posizione iniziale quindi va bene quindi vedete che sfruttiamo l'animazione precedente poi qui per andare nell'altra direzione dobbiamo degli rotazione 0 ma z meno 30 dall'altra parte e quindi qui facciamo un i loc rot e a questo punto torniamo qua all'origine all'origine però il il differenziale lo mettiamo lungo la z quindi era meno 2 perché torniamo su questo quindi qui facciamo i no facciamo i qua loc rot e abbiamo fatto la seconda animazione controlliamo che l'animazione no sia giusta controlliamo che l'animazione yes sia giusta qui se volete possiamo anche metterci un'altra animazione di fermo quindi si no fermo se volessimo farlo quindi facciamo un'ulteriore cosa mettiamo un'animazione che dice fermo in questa animazione praticamente cancelliamo tutti gli spostamenti che non ci interessano quindi facciamo B selezioniamo questi li cancelliamo quindi adesso il fermo vuol dire che lui sta abbastanza fermo cioè sta proprio fermo vedete che non si muove in questo caso in realtà se fosse ah no adesso c'è c'è un leggero sbalzo perché questo qui va a meno 2 quindi se volessimo proprio farlo stare fermo accertiamoci di andare sul 40 qua e lo mettiamo 0 e poi qui facciamo il il lock rotten così adesso è proprio fermo e quando lo verifichiamo questo qui è che sta proprio fermo quindi fermo no e yes ok quindi abbiamo messo ben tre animazioni in Blender ora a questo punto quello che succede è che noi dobbiamo andare a esportare questa cosa e uno dei formati che Blender 2.8 consente è l'export GLTF in qualche caso visto che conviene ancora esportarlo in collada ma se funziona cominciamo a provare in GLTF quindi esportiamo in GLTF andiamo sotto Blender e facciamo Susanna 3 animazioni ci accertiamo che qui siano selected objects e poi andiamo in animazioni e vabbè io gli ho messo always sample animations ci accertiamo di averlo selezionato il vedete che deve essere aranciato quindi facciamo file export GLTF ok facciamo l'export di Susanna Susanna 3 animazioni ok adesso abbiamo Susanna 3 animazioni ora a questo punto andiamo in Godot e riproviamo a fare il progetto da zero quindi usciamo entriamo di nuovo in Godot qui c'era Susanna di prima facciamo un nuovo progetto e lo chiamiamo Susanna 3 creiamo il folder sotto documenti facciamo create and edit e qui abbiamo un progetto vuoto in questo progetto andiamo ad aprirlo quindi open il file manager vedete che su Susanna 3 ci sono poche robe andiamo a prendere dove avevamo salvato Susanna 3 animazioni vedete che è questa gliela mettiamo dentro oppure vabbè facciamo anche una piccola cartella in cui ci mettiamo gli import quindi questa facciamo Susanna dove ci mettiamo in questa cartella questo glb ok a questo punto se andiamo qua vedete che l'avete intravisto lui ha capito che qui c'è un Susanna che è una scena e questa Susanna possiamo facendo Susanna doppio click crearne una che parte da questo import nuova ereditata allora qui abbiamo Susanna che come vedete è stata importata abbiamo un animation player che ha le tre animazioni fermo no e yes e queste animazioni sono state prese tutte e tre quindi sono tendenzialmente quelle che ci interessano ora facciamo una cosa leggermente diversa da quella che ho fatto prima proviamo a animare cioè a usare queste animazioni senza ricopiarle poi faremo anche un esempio dove duplicheremo animation player quindi il concetto è che le tre animazioni sono tutte lì per pilotarle occorre avere uno script però prima di andare avanti facciamo una scena quindi costruiamo una scena con una camera vogliamo mettere la camera la camera la vogliamo mettere quindi camera spostiamo vedete che la camera è proprio davanti se facciamo l'anteprima vediamo Susanna ora il piccolo problema che dicevo prima è che se noi mettiamo questa animazione ad esempio yes clicchiamo qua che vuol dire che viene eseguita all'autoplay al caricamento e anche se gli mettiamo che lo yes è in repeat questo è il discorso che lo yes e il no sarebbero in repeat quello che succede è che quando lanciamo questa scena quindi dobbiamo prima di tutto salvare la scena contro l'ess main che è comparsa qua poi dovremmo fare il play e dovergli dire che è main la scena principale ecco vedete che abbiamo questo effetto cioè che la nostra la nostra scimmietta fa l'animazione ma non non la trattiene quindi affinché questa animazione venga trattenuta dobbiamo aggiungere uno uno script quindi aggiungiamo uno script facciamo crea e nel ready gli metteremo appunto animation player punto play e gli possiamo dire di dire yes così la facciamo e poi facciamo ancora animation player punto e qui dovremmo mettere il fatto che sia in dovremmo dovremmo beccare qual è il loop set loop sarebbe adesso ricerco un secondo e poi riprendo ok rieccoci quindi la cosa giusta è quella di dire quando parte gli mettiamo animation player che è il nome di questo punto play e poi gli mettiamo il nome dell'animazione e poi di quell'animazione facciamo get animation set loop true ricordiamoci di fare queste cose alternativamente basta soltanto farlo una volta quindi si può dirgli semplicemente che la yes e la no quindi facciamo animation player get animation no ok le mettiamo true così lui fa partire l'animazione di default che era quella che gli abbiamo messo che yes di default però gli mettiamo fermo di default quindi facendo il run di questa scena abbiamo tutti gli effetti che lui ecco in realtà vedete che non l'ha presa tanto infatti il problema è che bisogna impostarlo tutto subito quindi l'animation player facciamo play si chiamava fermo questa animazione quindi diciamo che gli diciamo fermo quindi parte fermo in questo caso vedete che fermo e poi per farlo attivare gli mettiamo qua al func process gli mettiamo questa if is input is action action press e gli mettiamo le varie parti che abbiamo messo adesso possiamo fare ui down ui down or gli facciamo quindi se si è chiesto ui down oppure ui up togli le frecce in giù o frecce in su due punti e qui gli facciamo l'animation player play e gli mettiamo non fermo ma yes poi questa cosa la duplichiamo e gli mettiamo che se l'action è left oppure right l'animation è no e poi abbiamo detto che se premiamo la barra spaziatrice la barra spaziatrice sarebbe ui accept due punti allora l'animation deve tornare quella ferma ctrl c ctrl v fermo ora se noi lanciamo questo script teniamo che lui normalmente è fermo con la freccia in alto vedete che parte la freccia in alto la freccia destra fa il no e con lo spazio si ferma ancora meglio della prima versione che abbiamo fatto e oltretutto lo script è ancora più semplice perché abbiamo dovuto si fare uno script che comunque avremmo dovuto fare ma nello script l'unica cosa aggiunta che abbiamo dovuto fare è mettere questi metterci l'animazione che vogliamo con cui parte e soprattutto dirgli che le animazioni che si muovono devono essere in loop se non avessimo messo queste istruzioni queste qua succedeva quello che vi avevo accennato cioè andiamo in play facendo questo vedete che va su e giù e si ferma questo qui fa l'animazione e si ferma e basta che potrebbe anche essere quello che volete ma almeno così avete la possibilità di controllare se volete che l'animazione rimanga costante oppure se si ferma alla prima iterazione quindi mettere set loop true vuol dire che quando lo faccio fare no continua a fare no volendo uno poteva fare un ecco vedete che qua c'è ancora un piccolo rallentamento in centro questo lo potete risolvere eventualmente andando poi a migliorare le 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 animazioni che avete fatto vedete che qui abbiamo un'animazione che se la vediamo sul 3d vediamo un po' quindi scena questa se noi facciamo il play di questa quindi dobbiamo farla da qua no play non lo vediamo da qua l'animazione dobbiamo vederla animation player e qui dobbiamo scegliere l'animazione quindi abbiamo fermo no e yes qui facciamo no vedete che abbiamo l'animazione ecco vedete che qua l'animazione ce la fa vedere tutta yes ce la fa vedere dall'alto verso il basso per completezza vi faccio vedere quel discorso dell'animazione fatta con un secondo animation player così vedete come si fanno copiare animazioni da un animation player all'altro così finiamo definitivamente quindi su questa scena cosa facciamo scena root facciamo più e creiamo un animation player animation player 2 e questo animation player 2 dobbiamo mettergli le animazioni che c'erano dentro l'animation player questo lo stoppiamo così è più tranquillo e vediamo che c'è l'animazione yes che possiamo copiare andiamo su questo animation player 2 e qui possiamo incollare no animation resources no dobbiamo crearci una nuova animazione quindi facciamo su usanna yes no ok e in questa animazione gli copiamo l'animazione la chiamiamo questa yes quindi dobbiamo fare un rinomina facciamo yes e qui con modifica facciamo incolla della traccia verifichiamo se l'animazione è quella che ci aspettiamo sembra di sì però vedete che dobbiamo ricordarci di mettere la lunghezza complessiva che è 1,67 quindi facendo così l'animazione dunque dall'inizio no facciamo l'animazione e vedete che l'animazione viene eseguita lo yes per mettere le altre due animazioni mettiamola a zero facciamo l'animazione nuova che chiamiamo no e poi facciamo anche una nuova animazione che chiamiamo fermo ok e ci ricopiamo tutte le animazioni da questo animation player quell'animation player la yes l'abbiamo già copiata prendiamo la no copy tracks selezioniamo andiamo qua abbiamo detto no modifica past quindi ci siamo presi questa ricordiamoci di portare la lunghezza poi andiamo in fermo e anche qua ci ricopiamo il fermo modifica copy tracks qua fermo modifica past 1.67 facciamo tutte le animazioni della stessa lunghezza e a questo punto se vogliamo usare questo animation player 2 dobbiamo modificare qui anziché animation player mettiamo animation player 2 per usare questo secondo animazione quindi vediamo se così ce lo prende facciamo il play vedete che ce lo fa ok esattamente identico prima così è fermo possiamo pilotare le nostre animazioni quindi vedete anche voi cosa vi viene più semplice diciamo che la possibilità di copiare le animazioni fra un animation player un altro permette di più flessibilità nel senso che se ad esempio in alcune versioni di blender ho visto che l'export esportava una sola animazione per volta o ne vedeva una sola sapendo che si possono ricopiare l'animazione da un oggetto o un altro permette poi di esportare eventualmente l'animazione una per volta e poi importarle in maniera singola però se volete fare le cose in maniera molto molto semplice usate l'animation player quello che arriva con glb e riuscite a fare questa animazione ora io spero che chi di voi sia interessato al modo di importare al modo di controllare le animazioni su da godot cioè da blender verso godot sia in grado di capire quello che è il significato di queste funzioni quindi la play la set loop e di andare a prendere queste informazioni dalle relative tracce per questo video è tutto ci vediamo la prossima volta grazie a tutti